Signori è stata annunciata la data dell'evento Apple in cui verranno presentati iPhone 13 e non solo, ne parleremo in questo video ma sono dei prodotti per cui forse sono più in hype rispetto che all'iPhone 13 comunque, altri signori hanno detto che quest'anno si potrà fare il reso prima del preordine, così per portarsi avanti quindi sì alle 19, il martedì 14 settembre potrete eseguire l'evento Apple sul sito di Apple appunto oppure su YouTube non penso farò una live dell'evento su Twitch anche perché poi subito dopo dovrò far uscire il video quindi non ha molto senso però in ogni caso link in descrizione per seguirmi su Twitch, faccio live quasi ogni giorno alle 21 quindi insomma seguitemi su Twitch seguitemi anche su Telegram, ogni martedì regalo 5 euro di buono Amazon che il più veloce di voi potrà accaparrarsi e anche su Instagram, vabbè così insomma tanto per non farci mancare nulla questa qui è l'immagine dell'evento ed è un po' in realtà è molto misteriosa, cioè non si capisce bene di cosa potrebbe trattarsi c'è il logo di Apple a tipo neon che fa luce nell'acqua in questo ambiente molto scuro e questo neon secondo me potrebbe stare a significare l'always on display in realtà non so per quale motivo però tutti dicono che potrebbe significare l'always on display quindi va bene e non è una novità che gli iPhone 13 avranno l'always on display e i 120 Hz che penso sarà la novità più grande di tutte grazie al display LTPO fornito da Samsung che regolerà il refresh rate da 1 a 120 Hz in base appunto alla situazione oltre a queste novità sul display ci saranno delle camere migliorate quindi sia dal punto di vista del design ci saranno delle fotocamere più grandi, leggermente diverse soprattutto sugli iPhone 13 in quelle fotocamere saranno in diagonale ci sarà la notch più piccola, questo è un aggiornamento che in realtà non mi aspettavo però sembra abbastanza confermato delle batterie più grandi e insomma un upgrade abbastanza sostanziale per la line up degli iPhone che vede iPhone 13 Pro Max, Pro, iPhone 13, iPhone 13 Mini i prezzi sembra confermato che saranno leggermente più alti dovuto al fatto che c'è questa sorta di crisi dei processori dei chip, crisi dovuta chiaramente alla pandemia e alla richiesta quindi di processori chip insomma e oltre a costare di più l'iPhone 13 per colpa appunto della 15 dovrebbe essere veramente molto limitato cioè finisce veramente che si faranno i reselling degli iPhone 13 verranno venduti a prezzi altissimi spero di no ecco però quest'anno ancora più degli anni scorsi dovremmo essere lì al preordine pronti a comprare gli iPhone perché sennò poi se finiscono è un gran problema e per chi si stesse chiedendo di iOS 15 probabilmente non c'è una data di uscita proprio il 14 settembre e per prepararvi al meglio a quest'update vi consiglio lo sponsor di oggi ovvero Dr. Phone che non vi farà avere problemi durante l'aggiornamento sostanzialmente ci potrebbero essere dei problemi durante l'aggiornamento come ad esempio problemi che l'iPhone non si collega al server oppure che l'iPhone si blocca, va in boot loop, si blocca nella schermata del logo di Apple oppure che ci sono delle app che non funzionano dopo l'aggiornamento oppure vorreste fare il downgrade da iOS 14 in modo sicuro insomma tutti quei problemi che dovreste andare a risolvere manualmente però non sapete come si risolvono e insomma Dr. Phone vi aiuta a fixare questi problemi basta scaricare il software disponibile sia per Windows che per Mac OS collegare l'iPhone al Mac e Dr. Phone farà tutto in automatico tutti quei procedimenti che dovreste fare manualmente come questi che state vedendo a schermo il software li fa in automatico e non avete problemi sia con l'aggiornamento degli iOS 15 in particolare proprio in generale se avete appunto problemi come esempio l'iPhone che vi va in boot loop oppure l'iPhone bloccato in recovery mode se vi si blocca l'iPhone nella schermata con il logo di Apple e il tutto, questo è importante lo fa senza alcuna perdita di dati all'interno dell'iPhone è un salvavita praticamente che può esservi molto utile soprattutto in questo video di aggiornamenti insomma vi lascio il link in descrizione torniamo al video sono anche curioso dei nuovi colori abbiamo questo nero e probabilmente sarà forse quello che prenderò non lo so, vediamo e il sunset gold di questa alternativa originale che bisognerà vedere come interpreterà Apple ma insomma anche questa qua veramente molto interessante e invece sull'iPhone 13 normale dovrebbe esserci il nuovo colore arancione che ci sta insomma e riguardante le fotocamere nell'immagine lì dell'annuncio dell'evento c'è come vedete quest'ambiente molto scuro con il cielo stellato dietro questo qua potrebbe fare riferimento alla nuova funzione che avrà la fotocamera di iPhone cioè l'astrofotografia non la vedo una cosa così importante da dedicargli proprio l'immagine nell'annuncio dell'evento però insomma ci può anche stare ci sono dei grandi upgrade dal punto di vista della fotocamera quest'anno e non me l'aspettavo oltre agli iPhone 13 che verranno sicuramente annunciati verranno sicuramente annunciati anche gli Apple Watch 7 e di questi ragazzi sono tantissimo in hype perché ragazzi io ho un Apple Watch 4 no? ed effettivamente con gli Apple Watch 5 l'Apple Watch 6 l'Apple Watch 6 non c'è motivo di upgradeare questo è il momento adatto per upgradeare probabilmente ci sarà un redesign finalmente signori ci sarà un redesign avete presente la scocca squadrata dei iPhone 12 ecco ci sarà anche sui Apple Watch 7 e sì ragazzi vi dico sono in hype sono in hype per questo Apple Watch 7 perché chiaramente oltre al design appunto squadrato ci sarà un display più grande senza cornici tra l'altro anche due nuove dimensioni che saranno il 45 mm e il 41 mm in teoria se non sbaglio insomma è semplicemente un aggiornamento a livello di design e display ma che in un orologio fanno tanto ci prendete sono le cose che vedi sempre display e design e quindi redesign ci voleva l'unico dubbio che ho questo Apple Watch 4 è da 44 mm e sì ci sta nel mio polso ma lo aiuta tantissimo il fatto che è stondato perché chiaramente con il fatto che è stondato non si nota molto lo spessore questa cosa è accaduta anche con gli iPhone 12 l'iPhone 12 Pro Max ha lo stesso spessore di iPhone 11 Pro Max ma sembra molto più spesso perché queste cornici qua lo fanno appunto molto più spesso e ho paura che con l'Apple Watch 7 possa dare questa impressione qua quindi di avere una un mattone nel polso appunto per colpa di questi bordi squadati quindi dovrebbero farlo leggermente più sottile in teoria se vogliono che non sembri abbia appunto un mattone nel polso insomma è da capire questo è il mio unico dubbio ma sicuramente l'Apple Watch 7 è quello forse madonna quanti soldi perché poi devo prenderlo pure acciaio inossidabile quindi mamma mia signori signori effettuate una donazione donate un euro al povero Dario Torreso che dell'Apple Watch 7 non ci farà il reso iPhone 13 e Apple Watch 7 sono le cose sicure che ci saranno in questo evento proprio se non ci sono queste due è Apple 6 Marsa e ci sono anche delle cose che potrebbero annunciare tipo le AirPods 3 vi dico la mia secondo me non verranno annunciate perché no verranno annunciate semplicemente senza evento via press release sinceramente non capisco allora a parte il fatto che le AirPods 2 non sono mai esistite tutti le chiamano AirPods 2 ma queste AirPods le mie carissime AirPods con l'incisione Dario Torreso non ci sono mai chiamate AirPods 2 cioè Apple le ha commercializzate come AirPods un mini aggiornamento delle AirPods che hanno annunciato nel 2016 quindi Airpods 3 mi sembra un po' un nome del caso e inoltre io non vedo proprio questa necessità di fare delle AirPods nuove anche perché queste AirPods 3 che dovrebbero annunciare non hanno nulla in più rispetto alle AirPods di seconda generazione probabilmente sì saranno più piccole infatti se metto le AirPods all'orecchio come vedete qui c'è sto gambo che effettivamente è un po' troppo lungo e quindi con questo nuovo design molto più simile AirPods Pro dovrebbe aiutare sotto questo modo di vista però secondo me andranno a perdere un po' di quella riconoscibilità cioè le AirPods ci sono da 5 anni tutti le conoscono e Apple secondo me non si può permettere di cambiare questa riconoscibilità con un nuovo paio di AirPods 3 che dovranno rifare tutto quel processo di riconoscibilità e tutto semplicemente giustificando un cambio di design e non di funzionalità perché effettivamente queste AirPods 3 non hanno nulla in più rispetto alle AirPods di seconda generazione magari una batteria migliore sì vabbè ma poca roba insomma quindi sì sono in hype anche per le AirPods 3 non ve lo nascondo però sono un po' dubbioso per dire ma perché queste AirPods 3 ma c'era la necessità boh comunque fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate secondo voi cosa presenteranno se avete da fare delle speculazioni insomma libertà di parola e niente censura per questo video è tutto vi ringrazio tantissimo la visione noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video ciao 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 ciao